Realizzato il primo test al mondo per la diagnostica del papilloma virus umano HPV disponibile direttamente in farmacia, lo rende nota la scuola normale superiore di Pisa spiegando che a metterlo appunto sono stati due ex allievi PhD della scuola Bruna Marini e Rudy Ippodrino. Hanno svolto il corso di perfezionamento in biologia molecolare dal 2009 al 2015. Il test è stato approntato presso la startup Ulisse Biomed di Trieste. Grazie a un prelievo non invasivo che la donna può effettuare direttamente a casa è possibile rilevare il virus anche senza ulteriori procedure mediche con un considerevole abbattimento dei costi e dei tempi della diagnostica. Il test è stato validato clinicamente con istituti di eccellenza quali il centro di riferimento oncologico di Aviano, l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e il policlinico universitario campus biomedico di Roma. Il nostro test, raccontano due ex allievi, è non invasivo e sensibile rispetto ai test molecolari utilizzati negli screening nazionali e anche in grado di genotipizzare il virus, cioè fornire indicazioni precise sul ceppo presente nell'infezione e si insedisce nel panorama dei test consumer genetics, i quali hanno già ampiamente dimostrato di riscontrare un enorme interesse da parte dei consumatori. La ricerca guarda adesso ad altri tipi di test non invasivi.